È bello vedere come ogni anno ci sia un'iniziativa nuova, originale, unica in Europa, come per esempio questa staffetta tra Salvati e Salvatori. Vuol dire intanto che c'è un legame forte tra Salvato e Salvatore, ma vuol dire anche che questa realtà è sempre più viva a Piacenza. Sicuramente la capacità ideativa dei nostri volontari e del Consiglio è molto spiccata e anche quest'anno abbiamo ideato questa idea di rappresentare in 21 chilometri la vita che praticamente continua dopo un arresto cardiaco. Come hai detto tu è un evento unico, non era mai stato replicato. Unire la persona salvata e Salvatore, quindi rappresentare tutte le forze dell'ordine e i volontari delle pubbliche assistenze piuttosto che del vicinato che spesso salvano le persone, credo che identifichi il nucleo forte del progetto vita, cioè questa voglia di essere partecipi tutti in un progetto per la vita.